Ecco, questo potrebbe essere un buon artefatto per lui, ma io sto formando per lui da quando è uscito, ok, con questo domino l'ho bloccato quasi subito, tipo uno o due giorni dopo. Oh, ancora non dico un artefatto buono me l'ha dato, però caspita, caspita, non me li potenzia, cioè non me li dà, cosa ho di buono? Ecco che questo è carino, questo è carino, poi qua c'era una Nemo, no, perché considera, confronto, guarda questo qui non ha senso, invece qui mi serve un danno da critico invece che tasso, non ne ho, non ne ho, questo qui non ha crit rate, quindi dobbiamo continuare a farmare e questo per sempre, per sempre, non smetterà mai, non smetterò mai. Sempre alla fine con questo team lo sto facendo, che comunque ormai mi ci ho preso la mano, quindi un pochettino l'abilità che abbia abilità, è tipo il National, però solamente con Vagabond, niente di che, molto semplice. E comunque, ormai mi sono in realtà anche abituato a questo team, quindi l'altra volta ho preso un altro team, quello con Aida, Kazuha, Bal e Kokomi, che comunque era l'unico team che utilizzavo prima di pullare Scramouche, che comunque consideravo sempre uno dei team più forti che avevo, perché è super veloce e tutte queste cose. Ma adesso, beh, adesso, più che altro quando l'ho ripreso in mano quel team, era abbastanza lento, vabbè, più che altro perché mi sono disabituato e ovviamente, cioè, è normalissimo, attenzione. La mia arte è fatto buono, e quindi devo continuare a fare questo processo sempre, in continuazione ogni giorno, anche se vabbè ogni giorno ormai è un po' difficile, cioè, non mi ci metto proprio ogni giorno a fare. Oh mio Dio, che lag, cioè, non è che non mi ci metto ogni giorno, però mi è più difficile, per esempio, questa cosa l'avevi fatta stamattina, quando, non appena mi svegliavo, però, più o meno là, ok, dopo, dopo un pochettino. Che ne so, mi sveglio alle 9, la facevo, che ne so, alle 10, 11, però adesso proprio non me neanche completamente. E un pochettino mi dispiace perché non volevo perdere i contatti con questo gioco, però, vabbè, capita, succede, è normale. Come, in realtà, sto facendo anche con Dokkan, eh, attenzione. Non è che con Dokkan sono così tanto costante. Qui ci gioco molti meno, e in realtà, a volte, molti, molti giorni non ci entro nemmeno, direttamente. Vabbè, molti giorni, alcuni giorni capita perché proprio non mi va, perché devo, devo fare un sacco di cose qua, devo, gli artefatti, le missioni giornaliere, è un po' complicato, quindi. Cioè, certo, le missioni giornaliere, alla fine, ci metto 10 minuti a farle, ma, più che altro giornaliere, più, più artefatti. Non è che sia un problema completo, eh, per carità, perché poi, poi ci sbagliamo, eh. Anzi, ci frentendiamo, e quindi non si contro di nulla, però, ancora con sto qua che lancia le bolle. Per esempio, l'abistolo della scorsa versione non l'ho fatto. Beh, 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 spazio insufficiente, ma come vai? Forse perché non potenzio nulla? Non mi dà nulla questo gioco? Sempre la stessa cosa, mamma mia, neanche... Sì, potrei cambiare effettivamente team. Ma chi me lo fa fare, alla fine? Se ci pensi. Oh no, ho spiegato la stamina a caso, potevo utilizzarla per cose migliori. Oh no, ho sbagliato! Adesso vado giù. Peccato. Ora la spam di tasto sinistro. E vai, continuiamo. Speriamo in qualcosa di buono, anche se... Difesa. Cosa? Che c'è? Sprega la tua resina? Sì, l'ho fatto. Ah, vero? Che fortuna che sia con te, certo. Mi hanno dimenticato delle... Delle 12... No. Delle 10 pull. Buono. Non ci faccio ormai neanche troppo casto quello che esce e quello che mi danno. Non so neanche quante primo gemmo. 5.000 che sono esattamente... Senta 4. Non lo voglio alla time. Alla time? All... Alla... Alla item? Alla item? Non lo so. Ok, non mi ricordo la pronuncia. Vabbè, è appena uscito, chi se ne frega. I video che andanno sicuro in questo periodo saranno i preesame, sicuro, perché ora ho finito il calendario, devo fare quello da muro, che ancora devo crearlo in realtà, quindi ho finito relativamente, perché ho realizzato solamente tutti i mesi, da gennaio a dicembre, e ora devo farmi quello da muro, quindi quello che comprende tutti i 12 mesi. Dokkan è un po' così, è un po' sottotono, anche perché comunque non ho trovato niente negli ultimi periodi, quindi un pochettino la voglia non è stata neanche motivata, mettiamola così. Un gioco che mi sono scaricato recentemente è stato Pokémon GO, che sì, ci sto giocando, ma vabbè, nei punti morti, non è che non si può nerdare sul Pokémon GO, cioè si potrebbe con la Roma, ma non è che sia così tanta roba. Quindi, vabbè, ci sentiamo dopo, o in generale, a due, a due, a due, addio, che mano. Alt F4, no vabbè, non lo facciamo alt F4, magari.